Si parla di sudorazione eccessiva o iperidrosi in presenza di una condizione per cui la produzione di sudore è eccessiva e abbondantemente sopra quella normale. Le cause dell'eccessiva sudorazione sono riconducibili a fattori ambientali o fisici, tra i più comuni ansia o stress, a patologie come l'ipertiroidismo o l'obesità, alla menopausa e a squilibri ormonali, agli effetti collaterali di farmaci, stati febbrili, infezioni e tumori. Abbassare la temperatura, quindi uscire, indossare dei capi larghi, ampi e in fibre naturali leggere come il lino e il cotone. Se l'iperidrosi è scatenata da stress o ansia, ridurli praticando sport o yoga oppure nei casi invalidanti assumere ansiolitici o sedativi. Può essere utile anche la ionoforesi che è una tecnica che blocca la sudorazione andando ad agire sulle ghiandole sudoripare e otturandole, oppure alla tossina botulinica che invece agisce sulla sudorazione agendo sui muscoli delle ghiandole sudoripare o infine alla chirurgia che agisce eliminando direttamente alcune ghiandole. In caso di sudorazione eccessiva può essere utile reintegrare il magnesio e il potassio che servono all'organismo per funzionare correttamente. La sola alimentazione non è sufficiente a reintegrare le perdite di magnesio e potassio e quindi può essere utile assumere degli integratori.